Ragazzi, è successo Guardate la sua faccia incazzata Camper l'ha fatto veramente Vabbè, grazie al cazzo, non si può dir di no ai like Quindi, eh, eh, tocca farlo Hashtag the power of like, tac Abbiamo raggiunto 150.000 mi piace sul precedente episodio di Prova a Non Ridere Quindi adesso iniziamo con Stormi che si taglia tutta la barba Partiamo Avete vinto voi Abbiamo vinto No ragazzi, siccome Dexter è uno stronzo Ma cosa? Quoto? È uno stronzo, è un carissimo amico Eh, appunto, sì, carissimo amico È un po' un infamuccio Ma cosa? Una controsfida Siccome l'episodio dell'altra volta che sul video sul canale Dexter ha raggiunto più di 100.000 mi piace No, 150.000 Propongo una sfida a Dexter No, che sfida? A 150.000 mi piace Dexter non si farà la barba per due mesi No, stoppa, stoppa Eh beh, dai, ci sta tutta sta cosa No, no, non ti cresce C'hai la faccia liscia come il culetto di un bambino, quindi no problem A 200.000 mi piace Oh, due mesi sono due mesi, eh Ragazzi, lo facciamo Quindi dal momento in cui raggiungiamo 150.000 mi piace Io non mi taglio più la barba Dexter, fa freddo Cioè, voglio dire Ti serve la pelliccia Ho capito Come fai? Ragazzi, ve l'ho promesso, lo faccio Ma adesso andiamo avanti Due i baffi mi devo tagliare Oddio Che roba strana Come che roba strana, eh? Mamma mia, mi faccio già schifo No, no L'avevo scambiato per Jumpy Decche io, infatti È finita Mi serve solo una lametta Così si taglia le vene La capra si è impossessata di Stormy Il vostro capra Dexter mi sa sul cazzo Ma vaffanculo Sì, ti piacerebbe Oddio È un'altra persona Mamma mia, cioè io non c'è sta crede Tutto in bocca ce l'ho Oddio Che figlio della merda È disperato Non è lui Chi è questo nuovo youtuber? Le meme avevano ragione Spagliarsi la barba Di fare un giovanino di 20 anni Non è lui Stragoneria Bene E adesso possiamo cominciare Con il nuovo episodio di Prova a non ridere Sigla Dexter? Sì? Non c'è una sigla Non c'è il budget Ah, ok Camper ecco i soldi Puoi fare la intro Ok Grazie Ciao a tutti Eh, volevo dire Hello motherfucker Pensavate di esservi liberati di me? Non è stato così manco Questa fottutissima volta Possiamo partire con la prima clip adesso? Certamente Partiamo subito con una compilation Di spaventi e cadute Perché è una compilation Una compilation molto Papapapam Via C'è un po' bufiero Ah, così Ottimo Boom Oh, cosa? Quello sei te camper Quella bambina sei te Ma guarda Notare la bambina a fianco Che era completamente impassibile Oddio Che è successo? È nuda No, no Altri bambini spaventati No Abbiamo dei problemi Ha rischiato la morte No Insomma Molta gente Gente che ama le montagne Divertita Che succede? Perché? Eh Anche questo La faccia Penso che farà un Ecco Rip No Ma manco Rò così freddi Le fa urla così tanto Cioè Sento la loro paura Sulla pelle E con l'ultima clip L'intelligenza umana Perché? Idura A dimostrazione Che il personaggio di Kodaf È un personaggio ormai amato In tutti gli angoli del globo Anche Taylor Swift Ha voluto renderci Oh ma Addirittura Guardiamo Non ci credo Non ci credo Non è vero Non è possibile Tra l'altro Che grande stacco di gambe Che ha Kodaf Eh Che bel pezzo di Kodaf Eh Che bellissimo pezzo di Kodaf Ok E finisce così E che vuoi di più? Io un qualcosina di più L'avrei Vista volentieri Non so te E se ti dicessi che quel pupazzo Ero io Sì Quello a destra Ovviamente capito tutto Di quello che cantava Io sì Tu Eh Infatti Eh Eh Prossima clip Prossima clip Cosa ci hai portato? Camper vedo un bambino Leggermente sovrappeso su uno skate Lui è Joe E Joe ama lo skate Ok Non ama Che cosa? Eh? È low budget Dexter è low budget Non ci sono i soldi Per gli effetti originali Camper Le ragazze A volte sono dotate A volte hanno un pene E non sono ragazze Eh sì A parte il pene A volte hanno anche Un mestru Cosa? E basta camper Lui cofemminile Non ti segue Ma io sono un pupazzo di neve Non mi seguono Seguirò io loro Tagliamo la corta Non corta Come la lingua Di questa ragazza Perché la sua dote È avere una lingua Di dimensioni bibliche Pronto camper? Pronto La tua carota Potrebbe risentire Di questa clip Potrebbe diventare Una zucchina Cosa? Allora Camper Ma che cazzo è? Prossima clip Ed ora Signori Uno dei momenti Più belli Raggiunti Dalla fanbase Di Dexter Cosa hanno fatto Vediamola assieme Ah Ok Un brofrost No Lo vedo E continua a ridere Leggiamo un po' i commenti La parte più divertente È che non Viene Il pugno È vero Non mira il pugno Mira in faccia Però ne valeva la pena Emozioni uniche Per chi come me Portava le cuffiette Con volume al massimo Hai spaccato Con sto video Letteralmente Questa era bellissima Allora bimbi belli Sapete che Giù non mi paga nessuno Sapete che da poco Ci sono i cinema Star Wars E quindi il potere E quindi il potere della forza Ha convertito tutti Uomini e donne Eppure animali Cosa animali? Ma No Il potere Dello Jedi Che la forza Sia con me Miau Ragazzi È tornato Il bambino Popo fiero Ma siccome Siamo in tema Star Wars Come ha detto Camper È tornato In una veste particolare Insieme al papà Vero Camper? Siamo sempre in tema Star Wars E quindi Ritorna il suonatore Di forni È tornato Lui L'unico Inimitabile Suonatore Di forni Star Wars Edition No Cosa ha preparato Non sta suonando Lo suona in modo diverso Da notare però Sempre gli occhiali fieri Quelli non mancano mai Oh ti prego Quando tornerò a Roma Facciamolo un video Va bene Ok Ve lo promettiamo ragazzi Io non so suonare uno strumento Ci penso io al forno Siamo pronti Ultima compilation Camper Questa è una compilation Abbastanza lunghetta Quindi preparati Sono nato pronto Partiamo Ok Non ci si può mettere In quella posizione Che una sedia Direi proprio di no Ok No 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 Dai Tentato stupro Da parte di un cane No voleva solo giocare Che succede Gente che ride Ma come cazzo ride In modo strano Dunque Questa ragazza Ha un'idea geniale No Stai per scoppiare una tetta Oh Che I can win I can win I can win I can win Come consegnare il giornale Guarda mamma Però io lo vorrei fare in palestra Attenzione Finirà male È finita male Beh era scontato questo Win Win Batman Batman dei poveri Sì Dei poveracci Non aveva partita IVA Mi dispiace Questo cos'è Autoplasmic Sì il nostro amico Addio amica Del cuore Mi sa che non avrà capito Che c'è da fare E anche questa Ma abbiamo capito Come si sta seduti Secondo me Cade dalle scale Gente che rotola dalle scale Ma è una gallina Che cosa sto guardando Un uomo che dà le facciate Ah questa la conosco Io al pesce A pesci in faccia A pesci in faccia proprio A pesci in faccia Oh Dio santissimo Si è pisciato addosso Vediamo sto scherzo Oh Aia Perché Perché Signori No Faci una spiegazione logica No Anche questo Perché Ok Finiamo con quella clip No Io sento male All'erroalizzato Anch'io Bene ragazzi Direi che anche per questa Prova a non ridere Abbiamo finito E a 300.000 mi piace Dexter proverà a fare La stessa clip di prima No 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 Sì è vero La proverò a fare con camper Però camper è quello che farà La spaccata Io userò Non hai capito Dovrai fare la verticale Sprire le gambe E per farti trucidare i coglioni No grazie Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Anche quello di camper Trovate in descrizione Facebook e Instagram Anche quelli in descrizione E ancora una volta Ci diciamo Gente Bofrost E non spaccare lo schermo Sascha Io ti riconosco È già la terza volta Che ti vedo No Quarta volta Che ti vedo Oggi